La mia storia è la storia di una bambina che ha un incidente all'età di 18 mesi e si ritrova paraplegica, ma una bambina che ha una grandissima voglia di vivere, che pensa che i limiti siano solo nella testa e che ha voglia di fare. Ha dei sogni, un grande sogno è quello di diventare un atleta e all'età di 16 anni incontra lo sport ed è il suo grande amore fino adesso. Ho praticato tantissime discipline, mi sono sempre divertita, ma soprattutto lo sport per me è stato un momento di far capire alla gente che sono solo seduta, ma che si può fare quello che si vuole. L'importante è non avere limiti, ma credere, credere in se stessi e non aver paura di lottare.